Servizio uscire vincente 30-15. Vincente 30-15. L'applauso ritmato nel pubblico di Stoccolma. A distanza di un anno, Juan Martin Del Potro torna a vincere un titolo ATP e torna a farlo proprio a Stoccolma, dove aveva triunfato nel 2016 con Jack Sock, dominando la finale con Grigor Dimitrov. 6-4, 6-2, con la testa di serie numero 1 e numero 8 del mondo, Juan Martin Del Potro conquista il suo ventesimo titolo in carriera.